Una bellissima giornata primaverina. Ci siamo incamminati su questa strada sterrata per cercare l'alium ursinum, l'aglio selvatico. Speriamo di trovarlo. Per ora solo qualche arbusto fiorito e un po' di sclopit con cui si fanno le frittate. Nel sottobosco ecco il nostro alium ursinum, inconfondibile. Difficile da confonderlo con il mughetto perché basta strapparlo e già si sente l'odore di aglio. Raccogliamo le foglie piccole e più tenere. Ora che ne abbiamo raccolto abbastanza possiamo tornare a casa e usarlo per le frittate, il pesto oppure mondarlo e asciugarlo bene e metterlo sott'olio. Fermiamoci un attimo ad ascoltare il cinguettio degli uccellini in primavera. Alium ursinum o aglio selvatico va raccolto in tarda primavera, prima della fioritura. Ha proprietà ipotensive, depuranti, stimolanti e antisettiche. Grazie a tutti i nostri amici.